Veio King per la piazza, partiti! E' in vantaggio Veio King davanti a Cabestus, Guntur, Anoderbrick, Etavat, Biografi e Intestori. All'inizio della curva conduce Veio King davanti a Anoderbrick, Guntur, Biografi, Cabestus e Etavat e Intestori. Poco prima dell'ingresso in itura Veio King e Anoderbrick conducono davanti a Guntur e Biografi. I cavalli entrano in dirittura con Anoderbrick in leggero vantaggio davanti a Veio King, Guntur, Biografi, Intestori e Etavat. In vantaggio Anoderbrick attaccato all'esterno da Biografi, tra i due Guntur seguono Intestori ed Etavat. Passa Biografi davanti a Guntur, Intestori ed Etavat, si stacca Biografi davanti a Intestori e Guntur. Grazie. Grazie. Grazie.